Sono Leone Gennaro, vengo da Mondragone, provinci di Caserta, ho un ristorante e pizzeria, la Gioizzi Maruccia, questo è un impasto diretto, portato a 24 ore, con una tipo 00, la farcitura è un fior di latte, dopo cottura ci sta, scarola cotta a vapore, pestato di pomodoro secco e carpaccio di baccalà. Grazie, grazie.